One Blood Dona Reggae Festival Il gruppo Fratres di Trepuzzi, Squinzano e Campi ti invita a donare il sangue Sabato 18 dicembre 2010 Vieni a donare presso il centro trasfusionale dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce One Blood Dona Reggae Festival Ritira il tuo biglietto maggio per One Blood Dona Reggae Festival Alla donazione speciale del 18 dicembre Al centro trasfusionale dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dalle 8 alle 12 Dona la mattina e balla la sera One Blood Dona Reggae Festival One Blood Dona Reggae Festival Gruppo Fratres di Trepuzzi con il patrocinio del comune di Campi Salentina presenta One Blood Dona Reggae Festival Concerto di sensibilizzazione alla donazione del sangue Sabato 18 dicembre 2010 Centro fieristico Campi Salentino One Blood Dona Reggae Festival Live from Kingston, Jamaica Haidonia Haidonia Danger Zone Sound Haunted Ranchilele Papaleu Petra de Sule Sound Ghetto Eden DJ Morello Sabato 18 dicembre 2010 One Blood Dona Reggae Festival Start ore 22 Centro fieristico Campi Salentino Ingresso 8 euro One Blood Dona Reggae Festival Ci tieni sangù sulle vene Donalu 15 oize Orse Chuka Chuka Chuka